Sono arrabbiato per la partita, sono arrabbiato perché certe partite non si può regalare quello che abbiamo regalato a una squadra forte come Reale e poi perdere un po' il filo logico che non è la prima volta che ci capita della partita dopo aver fatto un ottimo primo tempo dove meritavamo molto di più, però poi alla fine nel calcio il risultato determina tante altre cose. Sicuramente dobbiamo migliorare tanto perché rispetto all'anno scorso abbiamo dato la sensazione in generale di essere meno compatti, meno cinici, meno capaci di reggere la partita con continuità. Questo sì, è un dato di fatto, per questo confermo che in questo momento non siamo ancora all'altezza di quelli che eravamo stati l'anno scorso.